Si svolta nella sala convegni Pascià di Militella in Val di Catania un'assemblea di tutti gli esponenti del PDL del Calatino. Tema dell'incontro, elezioni amministrative 2012, o meglio il punto della situazione in vista del rinnovo degli organismi provinciali e dei coordinatori del partito che dovranno traghettare gli elettori al prossimo appuntamento elettorale. Alle urne in provincia di Catania andranno 19 comuni su 58. Tutti i 15 comuni ci siamo riuniti per fare alcune riflessioni in merito al congresso di sabato prossimo in cui eleggeremo i nuovi organismi provinciali, il coordinatore, il vice coordinatore vicario provinciale e anche quelli del comune di Catania. Diventa un momento di grande dibattito ma soprattutto di grande rilancio dell'azione amministrativa del PDL laddove siamo al governo. Nell'ambito locale con particolare riferimento all'area del Calatino i comuni che andranno invece alle urne sono nove, fra cui oltre Galtagirone, Mirabella in Baccari, Lico di Obea, Mazzarrone, Raddusa, Palagonia, ancora Militello, Vizzini e Mazzarrone. Rocco Leonardi, esponente del PDL di Scordia. Il nostro augurio è che tutto il popolo del PDL si riesca a confrontare, come stiamo facendo noi come componente questa sera a Militello, si riesca a confrontare affinché il partito rilanci la propria azione politica in modo forte, in modo coeso, perché solo in questo modo si può crescere. Contestualmente verranno elette tutte le cariche amministrative dei vari comuni. Con questo mutuo di pari c'è successo ovviamente la valle.